E c'è un po' di alcambiata dal video della televisione, perché il digital terrestre fa bene in tanto come innovazione, io non le vioteco qui di tante. No, si diceva del digitale terrestre che è una tecnologia che nasce vecchia ma si sapeva bene anche nel fine 90 prima di quella legge Gasparri con cui verso il 2000 si è provato appunto a predisporre i tempi e l'implementazione del sistema. Lavorando sulla rete, però possibilmente con una buona parte della cittadinanza connesse in maniera veramente veloce, quindi in vera banda larga, parliamo di 100 megabit al secondo perlomeno, sarebbe possibile organizzare un sacco di fruizione, di spettacoli, di partecipazione e questo è fondamentale perché in entrambe le direzioni questo può essere utilizzato. Oltre a provare a fare i quiz all'audience, a chi sta ascoltando in quel momento la radio o la televisione, sarebbe possibile progettare, programmare dei programmi, dei format di produzione che però già prevedano da subito nella loro realizzazione la partecipazione degli ascoltatori in maniera attiva. Noi sappiamo che viviamo in un'epoca in cui è facile produrre degli oggetti culturali, dei prodotti multimediali con una dignità anche, non soltanto un po' più dell'amatoriale, siamo già semiprofessionali, con un computer da casa si possono fare bei video, belle musiche. Questa partecipazione da parte degli utenti è una delle dinamiche fondamentali del web moderno. Una parola chiave per identificare tutto questo potrebbe essere disintermediazione. Sareste disi? Sarebbe a dire la stessa cosa che abbiamo visto che accadere con la musica a fine 90, con Napster, o con il cinema, con le grandi major delle cinematografiche, o ora con l'informazione, è il fatto che appunto non vi è più bisogno di un intermediario, la stampa nei confronti del potere o della politica rispetto alla collettività e cittadini, ma tutti siamo direttamente, grazie alla tecnologia abilitante cosiddetta, siamo tutti direttamente in grado di poter avere noi le nostre piattaforme personali, le nostre web tv, le nostre radio, i podcast, avere un blog su cui scrivere, con una potenza di fuoco mediatica, mi vorrebbe da dire, che fino a dieci anni fa era qualcosa di impensabile. E possiamo essere presenti, facciamo il caso dei musicisti con cui tu esordivi, poter pubblicare i propri pezzi come mp3, anche a qualità bassa per l'ascolto, come campione per l'ascolto. Come che fai in time su MySpace o su tantissimi spuessi in due a pubblicare i talks ormai. Esatto, poi metto vicino un carrello per l'acquisto, posso acquistare i prezzi singoli e direttamente io disintermedio le case editrici che dovrebbero pubblicare il disco e così via. C'è un aspetto vero, feticistico, sul possesso dell'oggetto fisico del supporto. Ma si risolverà col team per ora. Il notevole invece come modello di pensiero che riesce a governare questa complessità che pian piano per prove ed errori è quello di iTunes, di cui si diceva il fatto che direttamente l'artista bypassando, nel caso di uno scrittore, bypassando una casa editrice, si rivolge direttamente a un distributore, che in questo caso è iTunes, che è una vetrina sul web. O Amazon. O Amazon, nel caso dei libri, scusa. E direttamente lui fa un prezzo, concorda col distributore direttamente la sua opera di ingegno, la sua opera intellettuale, senza passare per quella filiera industriale pesante, come conosciamo da 150 anni, che è quella dell'industria culturale editoriale. Questo non è pure più illusione, ecco, cioè disinuclare sclette. Vero, però la politica dovrebbe essere anche lungimirante. In questo momento qualunque osservatore che venga dalla sociologia o dallo studio dei media, delle comunicazioni di massa, o dalla tecnologia, o dalle forme sociali in ogni caso, si accorge che sono accadute un paio di cose negli ultimi 15 anni, che hanno modificato completamente il contesto in cui noi abitiamo. Oltre alla rete ci sono nuovi modelli economici di funzionamento, gli OGM, le biotecnologie, un sacco di cose che stanno modificando la nostra vita. Un politico dovrebbe, preso atto dei cambiamenti che stanno avvenendo, avere una proiezione sul futuro, su quale potrebbe essere la qualità dell'abitare da qui al 2020 e potrebbe accadere veramente di tutto in dieci anni su questa cosa, e adottare delle strategie di progettazione e realizzazione di qualcosa sul territorio che vada in una direzione di una qualità appunto del cittadino. Quindi abbiamo parlato in tutti quanti questi incontri, qualità nella formazione che prepari a questo mondo moderno, i bambini, qualità della pubblica amministrazione nel comunicare con la cittadinanza. Ecco, questo io tornerò magari a te puntate finale con queste argomentazioni. contornante alle musiche e alle televisioni. Certo. Ma anche queste nuove tecnologie non è facile che arrivino a chiapare ad esempio delle persone che hanno qualche anno in poi. Anche perché vi ho visto che c'è una serie di difficoltà, ad esempio sulle musiche c'è chi ha una cinquantina di anni. Sulle televisioni la maggior parte, ad esempio pensiamo a stati italiani che lo vedono, ormai e sono dai quaranticinchi in su, sotto e praticamente le televisioni è una roba completamente differente. All'è un momento di passaggio, di gestire, come si può di alfa? Bisogna intanto smettere di raccontare questo mondo come connotato, ammantato, colorato di sfumature di tipo tecnico, continuare a vedere questo. Noi adesso abbiamo un salotto che è una cosa iper tecnologica, tu dicevi prima i nuovi televisori predisposti e fondamentalmente diventeranno quello che chiamano, lo guardate se voi andate poi a comprare gli strumenti per il salotto, lo chiamano un media center, cioè il televisore in realtà è uno schermo grande su cui in realtà arrivano più diversi, numerosi flussi di immagini e di audio video. Potrebbe arrivare da internet, posso guardare YouTube, posso guardare il DVD, posso guardare un disco fisso che ho collegato esterno su cui tengo dei film che avevo, posso collegarmi digitale terrestre, posso tutto questo converge, quindi anche in quel caso lì un designer di interni deve subito ragionare avendo presente quella disposizione della socialità, in questo caso privata in un salotto, intorno all'oggetto di attenzione che è lo schermo che poi può seguirti per la casa. Insomma ci sono varie persone, designer, perché si tratta un po' di progettare, design in inglese non è soltanto disegno, è anche progettare. Cioè mi piacerebbe un schermo, perché mi serve, e che torna in un lavoro però a altri libri di Apocalytics di che magari è fevelino un'altra volta. Un schermo, inoltre che ho posto con il computer o con altre cose, inoltre che ho posto, non sai, anche tanto mangi, piuttosto che vedi un tabaia con altre persone, o che avere questi dismi e ci ricompagniebili a risvegliare dal vero, ma non ho sempre le possibili in di di voi. Ecco, che è forse tale un futuro che a me pare, può dare sei da orde parte. Cioè non mai non si fa queste piccole sforze? Sempre quella, volontà politica, l'identificazione anche di oggetti o di modi per fare dei soldi rapidamente, sto pensando ad esempio alle compagnie telefoniche, molto del futuro sarà sui telefonini, che non sono più telefonini ormai, sono media center, nel caso di oggetti fissi presso un salotto, tutti questi luoghi sono luoghi, sono tecnologie sociali. tu dicevi, se ho il televisore, oppure si diceva che il digitale terrestre, se fosse utilizzato come potrebbe essere, non è unidirezionale, come si dice nel caso delle comunicazioni, da uno a molti, ed è la televisione RAI oppure Mediaset che parla, ha una platea che non può rispondere, è possibile attivare comunicazione bidirezionale e quindi posso attivare su questi circuiti, col televisore connesso, con una webcam, posso attivare un sacco, posso fare le tv con i miei amici, posso parlare con i parenti lontani, posso costruire dei magazine o dei giornali su un argomento tematico a scelta insieme a un giro di persone che incontro online, nascono molte idee, se pensiamo ai format possibili, praticabili e tutto quanto questo concorrerebbe a in qualche modo far parlare le persone, la collettività di se stessa e del territorio su cui abita, quindi alla lunga permettere la relazione sociale, gli incontri, gli scambi, poi quando si parla online subito poi si va a mangiare una pizza, poi si torna a mangiare insieme, permetterebbe... Esatto, e questo permetterebbe però di costruire quel sentimento di partecipazione e di appartenenza al territorio che poi contribuisce a fare che cosa? Fare in modo che tutta una collettività, e oggi è tecnicamente possibile, possa progettare collaborativamente gli sviluppi di un territorio. Una cittadina potrebbe chiedere ai propri abitanti o anche quelli che la frequentano per lavoro, immagino che so anche piccole, San Daniele, aprire una sorta di grandissimo sondaggio questionario con interviste, con dei video, in modo tale che tutti possano dire la loro su quale potrebbe essere uno sviluppo della cittadina nel settore della viabilità, nel settore delle imprese, nel settore della cultura, dell'offerta culturale, sentendo veramente tutte le persone cosiddette portatori di interesse, portatrici di interesse. Questo non è il futuro, è quello che oggi noi vediamo intorno a noi. Le imprese, ad esempio, le aziende hanno capito che... Ha specialmente richieste. E lì si parla di soldi, anziché muovere le persone e prendere gli aerei per andare a New York, io faccio delle videoconferenze, formo le mie dirigenti alla grammatica della videoconferenza, perché sembra di essere in presenza, ma in realtà non siamo, perché c'è una grammatica che è quella del video, come sedersi, come parlare. Però una volta che si mettono a punto diventa uno strumento molto efficace, permette di fare le riunioni di lavoro a distanza e il tempo... non sono da leggere tanto in maniera puntuale questi fenomeni, cioè non è che faccio una videoconferenza e mi cambia la vita, ma dopo un anno che tre quarti delle mie riunioni di lavoro le faccio in videoconferenza, ho imparato molto, ho fatto girare molta comunicazione, ho fatto girare molte opinioni nel gruppo di lavoro e quello che è la cosa importante, cioè la cultura condivisa del gruppo di lavoro, potrebbero essere una classe di insegnanti, l'insieme dei dirigenti di un'azienda, l'insieme dei funzionari pubblici di un comune, di un ente locale, insieme è salita la cultura complessiva del gruppo, tramite gli scambi quotidiani che è possibile tessere grazie a questi strumenti. L'essenziale è mantenere anche il team Libre che si fa due, perché se questa è una scusa come che fanno qualche dom per vedere le persone si preoccupate, a me fanno pure delle riviste di informatica una frase, dopo magari essere... ecco, in questa maniera potete lavorare anche tra il team Libre. Eh no, eh no, eh no. Ma scusa, ma allora non è il team Libre? Anche se però ci sono sì, molte riflessioni sull'argomento, il fatto è che stanno i bordi dei due tempi, quello lavorativo e quello ludico, libero, sono ormai molto sfrangiati, sono sfumati. Noi possiamo lavorare in una maniera a scacchiera, a macchia di leopardo, se lavoro molto da casa, come molti professionisti fanno, potrebbero fare oggi, io posso spezzettare il mio impegno lavorativo, quindi il vecchio modello, anche questo, industriale o meglio del terziario del Novecento, che è le otto ore di lavoro, andare sul posto di lavoro, sedersi in una scrivania, sono dei modelli per far lavorare che sono forse non più adatti al modo come si lavora oggi. Io se faccio girare le informazioni, non sono uno che costruisce degli oggetti in acciaio, non ho bisogno di avere la stessa struttura, l'organizzazione lavorativa per produrre con lo stesso risultato. Sì, a parte che anche in che senso, anche tutto di lavorare la cia, può dare scambiare anche in futuro, perché proprio le simpri, in grado di tecnologie, tutto può, ad esempio di chiesa, fare lavorare dai macchinari, dopo le simpri che qualcuno ha di occuparsi di manutenzione del terreno, però anche per la manutenzione, ecco, questi trasmettitori sono al disarama, sono venuti controlli, venuti controlli proprio in questa maniera, di remoto, di un'estanziute che gli è situata in città Taudi. Quanto serve l'intervento, quanto non sono speranze, se tutto il resto, un'alchiappa al vato al ripetitore che l'è in montagna. Ecco, che spardisi, che anche c'è il lavoro, che sono più pratici, se può di avere un vantaggio in questo senso, addirittura può controllarlo di un telefonino. E, ben on, Giorgio Yannis, ci rai anche di fare un trucco di tutte queste snesse e stabaiate, spazio che non è stata destante, poi dice che è sempre... Mandi, Giorgio, grazie, buona giornata anche a te. Musica. 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 Musica.